Inaugurato è già operativo il secondo centro del riuso presente in Regione Abruzzo, il primo per quanto riguarda il comune di Montesilvano. Questo grazie all'intuizione dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Ottavio De Martinis e da Formula Ambiente che gestisce la raccolta differenziata nella città adriatica. Tanti benefici per il territorio, sicuramente quello del rispetto dell'ambiente perché tanti materiali che magari anche buoni oggi possono essere appunto riciclati sarebbero inevitabilmente diventati rifiuto e magari perché no anche in alcuni casi depositati come spesso accade purtroppo tristemente sul territorio. Ma al di là di questo beneficio poi ce n'è un altro, come dicevi, di natura sociale perché magari ci sono degli oggetti che per qualcuno non rappresentano più un'utilità ma ci sono famiglie invece e altri soggetti che ne hanno davvero bisogno e quindi uniamo sia un discorso prettamente legato all'origine urbana a un discorso sociale e questo la dicesunga su quanto oggi sia importante questa giornata. Situato nel vecchio mattatoio di Via Nilo adiacente al centro sportivo Unicentro nello stabilimento in questa prima fase sarà possibile conferire tutti quei materiali a cui è possibile dare una seconda vita, mentre gli interessati potranno richiedere di portarsi a casa questi oggetti, il tutto rispettando il regolamento disponibile sul sito di Formula Ambiente alla sezione riguardante il comune di Montesilvano. Qui i cittadini potranno venire e portare i materiali ancora in buono stato di conservazione per poter essere poi da altri cittadini presi gratuitamente. Ecco, da diversificare il tema dei rifiuti con il tema del riuso. Certo, i cittadini qui porteranno dei materiali che saranno riutilizzati da altre famiglie, mentre nei nostri centri di raccolta, uno già esistente, uno aprirà da qui a un mese, i cittadini possono disfarsi di quei materiali che sono ormai inutilizzabili. Il comune ci ha messo a disposizione questo spazio non più utilizzato, noi gli diamo una nuova vita, come questa struttura è stata pensata per dare una seconda vita alle cose. In un periodo di crisi economica dove tante famiglie sono in difficoltà, pensiamo che sia una risposta efficace ai bisogni delle persone e anche per essere operativi e concreti verso la transizione ecologica.